Il prossimo 10 febbraio da Ciaroli, frazione di Pollica, è prevista una manifestazione per le strade del centro cittadino per chiedere di procedere con le indagini e di individuare i responsabili dell'omicidio di Vassallo. Il sindaco Pescatori è ucciso il 5 settembre del 2010 e i cui responsabili sono ancora a piede libero. La marcia per Angelo, conoscere la verità per ricredire nella giustizia, è stata organizzata, così come la petizione online, dalla Fondazione Angelo Vassallo e vedrà la partecipazione di decine di sindaci provenienti da tutta Italia, oltre che di numerose associazioni civili. Dopo 5 anni di assenza abbiamo deciso di tornare da Ciaroli per ricordare Angelo. Saremo in tanti per chiedere verità e giustizia perché non è accettabile che lo Stato rinuncia a cercare chi ha ucciso lo Stato. Lo dice Dario Vassallo, fratello di Angelo e presidente della Fondazione, che ha provveduto ad inviare una lettera al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, per sollicitare un intervento diretto del capo dello Stato. L'appello di tutti è che sia scongiorato il rischio di una richiesta di archiviazione da parte della Procura di Salerno del fascicolo aperto a carico di Bruno Umberto Damiani, indagato per concorso in omicidio aggravato dalla finalità mafiosa. Dario Vassallo ha spiegato che la marcia partirà dal porto di Ciaroli per terminare presso il luogo in cui è stato ucciso Angelo a pochi passi da casa. Ci saranno i sindaci del territorio e quelli prevenienti da ogni parte d'Italia, ci sarà il sindaco di Riace, quello di Peschici, il primo cittadino di Cerignola e anche i rappresentanti dell'amministrazione comunale di Napoli. E oltre alla società civile e alle associazioni, l'invito a tutti i big politici che in questi giorni partecipano alla campagna elettorale. Non posso aspettare altri vent'anni, dice Dario Vassallo, per conoscere la verità. Ospezione di verità. Se dovesse arrivare la richiesta di archiviazione, sono pronto a legarmi davanti a Montecitorio. Voglio tornare a ricredere nella giustizia, ma ognuno deve fare la sua parte. Intanto la petizione online nella tarda mattinata di oggi aveva già raggiunto circa 500 sottoscrizioni.